buongiorno amici amiche di youtube come state tutto a posto dopo una settimana di non ci siamo visti dopo una settimana di pausa eccomi nuovo qua per voi a farvi vedere sempre le bellezze della liguria oggi sono qua ad albisola molto molto vicino nella città dove abito io un posto per chi non lo conosce è molto famoso per le ceramiche per la sua enorme bellezza la posizione in cui in cui è vicino al mare ha un passo da tutto comodo oggi cercherò di farvela vedere un po guardate qua guardate che bello il mare alleluia guardate questa è albisola questi sono i bagni di albisola adesso come vi dicevo cercherò di farvela un po vedere sperando che non piova e il tempo me lo permetta cos'altro dire spero che siate tutti bene che continuate a seguirmi e chi non chi non mi segua non comincia a fare si iscrive al mio canale come al solito mettete un mi piace ciao amici e amici adesso vuoi desvi paesaggi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.